E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come un ritrovato dal titolo andremo a parlare di alcune novità che riguarderanno il crogiolo a partire della prossima stagione Come forse molti di loro sapranno infatti da Shadowkeep il sistema del crogiolo cambierà di molto e andremo appunto a vedere in questo video quali saranno le modifiche che Bungie vorrà attuare Iniziamo dalle più importanti ovvero quelle che riguarderanno le playlist Fino adesso tutti noi conoscevamo la distinzione tra playlist competitiva e playlist in quickplay e di conseguenza avevamo due diverse classifiche di punti quella gloriosa e quella valorosa Ebbene da Shadowkeep questo sistema cambierà leggermente non sarà più presente una sola playlist quickplay e una sola playlist competitiva ma ci saranno diverse playlist che ci permetteranno di guadagnare punti valorosi o gloriosi Iniziamo subito con la modalità principale quella che si avvicina di più alle quickplay attuali Questa si chiamerà classic mix e includerà controllo scontro e supremazia Di conseguenza giocando in questa playlist potremmo avere la probabilità di incontrare solo una di queste tre modalità Per chi invece preferisse giocare semplicemente in controllo Sarà presente una playlist a parte ovviamente un controllo 6v6 come al solito Che anche in questo caso ci fornirà punti valorosi e che Bungie ha definito come punto d'inizio per i nuovi arrivati al gioco Inoltre sempre rimanendo all'interno della classifica valorosa sarà presente un'altra playlist 6v6 a rotazione settimanale Che quindi settimanalmente includerà le modalità scontro, supremazia e pandemonio Parlando invece delle modalità che ci forniranno punti gloriosi Iniziamo subito con sopravvivenza in 3v3 Ritornano quindi le competitive in 3v3 come in Destiny 1 E essenzialmente per quello che riguarda la playlist competitiva Queste si svolgeranno esclusivamente in modalità sopravvivenza Non è stato ancora definito se le vite in sopravvivenza saranno diminuite essendo un 3v3 e non un 4v4 Ma sinceramente è una speranza che io ripongo Altrimenti le partite finirebbero a durare veramente molto di più Per quanto riguarda quindi sopravvivenza in 3v3 saranno presenti due diverse playlist Una dedita al matchmaking di squadre singole Quindi se sarete da soli la vostra squadra e quella avversaria in questa playlist sarà composta esclusivamente da giocatori singoli Che quindi non saranno in team insieme sin dall'inizio Se invece vorrete giocare in squadra sarà presente una playlist a parte appunto in 3v3 Ci sarà inoltre un'altra playlist a rotazione che non è stato definito bene se tratterà punti valorosi o gloriosi Questa però sarà in 4v4 e le modalità a rotazione saranno vigilanza e detonazione In generale Bungie ha anche annunciato il ritorno dei laboratori del crogiolo e quindi di modalità come breccia e rogo Tuttavia queste non sono state collocate all'interno di alcuna playlist Quindi suppongo si troveranno solamente all'interno dei laboratori E' tuttavia confermato che all'interno del laboratorio del crogiolo verrà reinserita la modalità eliminazione proveniente da destine 1 Per chi non lo sapesse eliminazione è un 3v3 all'interno del quale avremo solamente una vita Per intenderci il sistema sarà lo stesso di detonazione solamente che non sarà presente la carica Tuttavia Bungie ha voluto specificare che all'interno dei laboratori saranno presenti diverse modalità di eliminazione Non sappiamo ancora in che modo Ma è stato detto che questa è una scelta della vita a stimolare i giocatori Passiamo ora a parlare delle mappe all'interno dei quali potremo giocare in crogiolo Verrà effettuata una rivisitazione generale delle mappe Infatti alcune mappe verranno rimosse totalmente Altre saranno esclusive per alcune modalità e ne verranno anche aggiunte di nuove Per quanto riguarda le mappe che dovremo salutare da tutte le playlist Queste saranno gola della legione, dirupo abbandonato, rappresaglia e desolazione A mio parere una scelta non troppo compianta per quanto riguarda quasi tutte le mappe Tranne che per dirupo abbandonato Ci saranno appunto come già detto due mappe che saranno esclusive in alcune modalità Ovvero equinozio per quanto riguarda pandemia, rogo e breccia E base degli echi per quanto riguarda supremazia, pandemonio e breccia Verranno inoltre aggiunte nuove mappe Per esattezza 3 Due provenienti da Restine 1, Corsa della Vedova e Brescia del Crepuscolo E una totalmente nuova chiamata Frammento Che Bungie ha voluto descrivere come un incrocio tra la città sognante e la foresta infinita Come già si vociferava verrà effettuato anche un cambiamento per quanto riguarda le munizioni pesanti Infatti nelle playlist 6v6 queste saranno condivise all'interno di un team Questo significa che se un membro della squadra andrà a riscattare le munizioni pesanti Tutti gli altri membri della squadra avranno esattamente 7 secondi per recuperarle dallo stesso spot Al termine di questi 7 secondi le munizioni non saranno più ottenibili In generale però considerando questa condivisione delle munizioni all'interno del team Bungie ha preferito diminuire le munizioni ottenibili in una singola volta Il cui numero tuttavia sarà indipendente in base a quanti giocatori le prenderanno Per farvi un esempio se al momento riceviamo 8 colpi di Adria Con l'aggiornamento tutti quanti potranno ottenere le munizioni pesanti Ma probabilmente da 8 scenderemo intorno a un numero simile al 5 Ultimo ma non per importanza è stato effettuato un cambiamento per quanto riguarda tutti i sistemi di rank Quindi sia quello del valore, quello della gloria e quello dell'infamia In particolare questi cambiamenti andranno a vedere le serie di sconfitte e le serie di vittorie Queste avranno molto più significato infatti nella nuova stagione Oltre a fornire un bonus maggiore appunto all'aumentare delle serie vittoriose Le sconfitte non andranno ad annullare completamente la serie Ma andranno nella classifica di valore e in quella di infamia a diminuire di 1 la nostra streak di vittorie Per quanto riguarda invece la playlist gloriosa In caso di sconfitta perderemo due serie di vittorie invece che una Inoltre per quanto riguarda il grado glorioso Gli sviluppatori hanno deciso di agevolare la conquista delle armi del pinnacolo Infatti se saremo a grado bestiale o inferiore la perdita di punti sarà abbastanza limitata Potremo continuare a perdere punti ma non potremo mai passare da un grado ad un altro Per intenderci quindi se saremo a 2500 punti quindi a grado bestiale Il minimo a cui potremo scendere sarà 2100 In generale all'interno dell'articolo sono stati anche annunciati i bilanciamenti mari Che tuttavia sono veramente tanti e molto minuziosi Vi lascio quindi il link dell'articolo in caso voleste leggerli E detto questo vi direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate e condividete Lo dito a tutti quelli che non conosciate e che non conosciate Che c'è stata bellissima Seguici anche su Instagram, Facebook e con ogni video Vi lascio il moco sotto in descrizione anche dal bellissimo, nuovissimo, fantasissimo sito E detto questo ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao